Un posto al sole, anticipazioni 2 marzo, matrimonio in arrivo, ecco per chi. Anticipazioni trame dal 2 marzo, lieto fine per una coppia amatissima. Cancelletto Un posto al sole, la storica soppopera in onda tutti i giorni su Rai 3 sta regalando, proprio nelle ultime settimane, emozioni e colpi di scena al pubblico che segue fedelmente da più di 20 anni la serie televisiva. Al centro della scena abbiamo visto dapprima il rapimento delle piccole Sofia e Bianca per opera di Salvo Prisco e dei suoi complici, poi la loro liberazione grazie allintuito dellex poliziotto Luca Grimaldi e al coraggio di Franco, infine la morte misteriosa dello stesso Salvo. Una storilinea vincente ed intricata che ha tuttavia permesso un riavvicinamento importante tra due storici personaggi. Vediamo di chi si tratta e cosa dicono le anticipazioni sul futuro di questa amatissima coppia. Franco e Angela di nuovo insieme. Tra le coppie più amate di Un posto al sole, spicca quella formata da Franco Buschi e Angela Poggi, storici personaggi della serie televisiva targata Rai 3, che in tutti questi anni hanno dato vita ad intrecci complessi e vissuto momenti ed esperienze forti che hanno forgiato il loro carattere e messo alla prova il loro amore, video, più volte messo in crisi. Negli ultimi mesi, ad esempio, i due sono persino arrivati a separarsi e Franco ha iniziato una relazione con Luisa, figlia del suo dattore di lavoro, Don Peppino. La situazione tra i due, dunque, sembrava ormai compromessa e il pubblico acclamava a gran voce, soprattutto attraverso i social network, un ritorno di fiamma tra loro, che è finalmente arrivato, proprio nel corso degli ultimi episodi, e sarà foriero di una novità importante. L'annuncio del matrimonio a Giulia e Renato. Stando alle ultime anticipazioni di Un posto al sole, infatti, nelle puntate che vedremo a partire dal 2 marzo, Franco e Angela, che si sono riavvicinati soprattutto dopo la terribile esperienza del rapimento di Bianca, saranno concordi nel prendersi del tempo per riflettere sul destino della loro storia d'amore, video, ma non terranno fede a questo proposito. Infatti, la coppia deciderà, a sorpresa, addirittura di sposarsi e annuncerà la novità a Giulia e Renato. Prima che tutto questo accada, però, il Boschi verrà sospettato dell'aggressione a Gaetano Prisco, compiuta da Valentina, la quale deciderà di costituirsi e scagionerà l'uomo. Ci sarà ancora tanto da travagliare, insomma, come è nella tradizione di Un posto al sole, ma si spera che almeno per Franco e Angela sia finalmente arrivato il lieto fine. .